Aveva il divieto di avvicinarsi alla sua ex compagna ma si è presentato a casa sua spaventandola. Un uomo residente a Tribano è stato arrestato dai carabinieri per aver violato il provvedimento. Alertato dai vicini di casa di una donna ucraina che hanno sentito le sue urle disperate, i carabinieri sono intervenuti a San Pietro Viminario trovando l'uomo che si era avvicinato alla sua ex. Per questo è stato arrestato. Il giudice ha convalidato l'arresto rimettendo in libertà l'uomo per il quale però vige il divieto di dimora nei comuni di San Pietro Viminario e di Solesino.